Rubinetti a secco, molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi questa mattina a causa dell'emergenza idrica. Qui alle mie spalle invece vedete tanta acqua che esce dalle fontane, acqua che comunque, molti cittadini dicono, un miraggio, sembra uno schiaffo alla città, uno schiaffo ai rubinetti secchi, al fatto che non possono nemmeno lavarsi. Di fatto la fontana ha un sistema di acqua che è comunque riciclata, va e viene sempre la stessa acqua. Al momento li stiamo affrontando con molti disagi, anche perché il comune o l'amministrazione tutta non ha mai cercato di fare qualche cosa per prevenire questi guasti. E oltre alla questione lavorativa ci sono le questioni familiari delle persone che hanno realmente bisogno di acqua per potersi al minimo almeno lavare. Noi abbiamo il serbatoio, la stiamo centellinando, ci rabbattiamo praticamente, c'è una difficoltà che bisogna risolverla più presto. Speriamo che il comune e tutta l'amministrazione risolvi questo problema. Guardi, grazie al serbatoio che abbiamo, che è ben dimensionato, non ci stiamo avendo problemi. Quindi comunque non la state subendo in modo particolare? Assolutamente no, stiamo attenti ovviamente, però non abbiamo problemi.